L'abbiamo accennato in apertura, visite ieri a Bancali di tre esponenti del PD nazionale e regionale. Riscontrate le criticità di sempre ancora irrisolte. Ce ne parla nel servizio Emanuele Floris. A Bancali lo scenario è critico come sempre. A riscontrarlo tre esponenti del PD andati ieri in visita nel carcere sassarese. Manca il personale, non c'è stato nessuno in missione, in ruolo di nuovi ispettori e di nuovi commissari. Stiamo quasi al 90% di assenza di queste figure intermedie. Insomma è a gravi rischio sia la condizione di salute del personale che la sicurezza in quel carcere. Troppi casi psichiatrici detenuti in carcere e pochi gli agenti in forza e la struttura che spesso lavorano oltre gli orari stabiliti. Sono persone che si stanno sacrificando molto garantendo anche turni possibili. Però è una condizione che non può reggere a lungo. Insomma il governo o fa qualcosa oppure dichiara fallimento rispetto alla propria politica penitenziaria. Oltre a lei erano presenti alla visita anche il consigliere regionale Antonio Spano e la presidente della commissione sanità Carla Fundoni. Relativamente agli ultimi fatti intercorsi nella casa circondariale di Bancali ritendo opportuno ripartire da quella che viene un po' considerata la cenerentola della sanità che è la sanità appunto penitenziaria. Quindi un'indagine conoscitiva attraverso la commissione competente audendo gli operatori sanitari che ci porteranno le criticità delle carceri della Sardegna.